le parti si invertono senza neanche troppa fantasia. Chi ieri era all'opposizione gridava taglia la sanità, si toglie la salute agli italiani, mancano i medici. Oggi governa e quindi la realtà è quella che è, bisogna guardare ai numeri per quelli che sono, al bilancio per quello che è, i tagli e la sanità non si sono mai fatti, sono fatti per un anno. Adesso il tema è il blocco dell'indicizzazione che significa una diminuzione di potere reale, ma il fatto è che chi ieri governava, e quindi si sentiva accusare, oggi all'opposizione dice taglia la sanità, ci tolgono la salute, mancano i medici. Ma se stessimo alla realtà, ai fatti, ai numeri, e provassimo a ragionare, forse si accorgerebbero entrambi, lascia perdere destra, sinistra, sopra, sotto, è diventata molto noioso questo giochino, della mancanza di capacità di ragionamento politico, cioè l'unica cosa che dovrebbero fare. Allora, mancano i medici in Italia? No, no. In Italia c'è un numero di medici, paragonabile con gli altri paesi, ne abbiamo all'incirca il 10% in meno di quanti non ce ne siano in Germania, in Spagna, in Svizzera o in Svezia, ne abbiamo il 20, 30% in più rispetto a quanti non ce ne siano in Francia, in Olanda, in Finlandia e in Regno Unito. Questo è il tema. Però, ecco la questione, mancano i cosiddetti medici di famiglia? Certo che mancano. Mancano alcune specializzazioni. Ma allora, se tu hai un numero di medici che è sostanzialmente in linea con quelli degli altri paesi europei, ma ti mancano determinate specializzazioni e ti mancano i medici di famiglia, non è che per caso tu hai un problema d'organizzazione anziché di distrillare. Per esempio, noi abbiamo un problema di questo tipo. Noi abbiamo il 56% dei medici che hanno più di 55 anni, il 23% ne ha più di 65. Queste percentuali, quelli 65, sono il 6-15% negli altri paesi europei. Cioè noi abbiamo medici abbastanza anziani. Questo da una parte è perché diventiamo tutti un po' più anziani, quindi dobbiamo abituarci a misurare questa cosa in tutto. Occhio, perché è sempre lo stesso problema. Poi, così come i lavoratori quando se ne vanno in pensione chi li mantiene, è così anche i medici quando se ne vanno in pensione e poi chi cura gli altri. Perché il problema è sempre lo stesso. Facciamo finta, viviamo come se non ci fosse un domani. Ma dove vanno i giovani medici? Visto che ne abbiamo più o meno lo stesso numero. Dove vanno? Vanno prevalentemente nel privato. Perché? Perché nel nostro sistema meno del 35% dei medici lavora in un ospedale. Al contrario della Germania dove sono il 50% e in Francia dove sono il 65% quelli che lavorano in un ospedale. Non è vero che noi spendiamo meno, a parte che abbiamo un buon sistema sanitario. Il tema è che noi spendiamo più degli altri. Perché dobbiamo sommare alla spesa pubblica, alla spesa privata. Ci sono paesi come la Germania dove esiste una forma di sostanziale obbligo all'assicurazione privata e prestazioni private che vengono fatte in capo a quella cassa e alle casse pubbliche. Noi in Italia la spesa privata non la contiamo proprio. Eppure quanti ce ne sono? quanti ne troviamo a fare gli esami, le analisi, le cose perché c'è troppa fila da quell'altra parte. Anche questa è spesa sanitaria. E allora? Anziché mettersi lì a dire che bisogna solo spendere l'unica cosa che sanno dire bisogna spendere più soldi. Come se spendendo più soldi automaticamente hanno il meglio. Mi ricordano quelli che non capiscono niente di vino e vanno al ristorante e dicono mi dia la lista dei vini e ordinano quello più caro che dice sarà il migliore. No, sarà la migliore fregatura che hai preso nella vita. Perché qualche cosa dovresti conoscere. Prendi atto che la statalizzazione regionalizzata figlia della riforma del titolo quinto della Costituzione del 2000 è un fallimento. Un fallimento totale. Prendi atto di questo. Ci sono alcune regioni dove la sanità è buona e ci sono altre in cui è eccellente. Però a seconda di quello che succede perché quella dove è eccellente poi dopo arriva il covid e crolla tutto e ce ne sono altre dove la sanità fa schifo. Il tuo problema non è quello di togliere il numero chiuso nell'università che forma dei buoni medici ma semmai quello di togliere il collo cioè di allargare il collo di bottiglia delle specializzazioni cosa che è stata fatta dal governo Draghi deve avere i suoi effetti nella realtà. Dovrai imparare a far politica pensando alle riforme non solo a reclamare cassa, cassa, cassa anche perché ricordati sempre di dire che quando tu politico chiedi cassa c'è qualche cittadino che si scassa perché gli tocca pagare.